Allora, concludiamo adesso la parte sul controllo dell'interazione e concludiamo con questo anche il corso perché nel controllo di quadricotteri ho eliminato l'argomento dal corso, va bene? Poi se siete interessati magari lo aggiungiamo in applicazioni robotiche che è il modulo a scelta. Allora, che cosa abbiamo visto? Noi abbiamo visto fino adesso che cosa succede quando noi scambiamo delle forze con l'ambiente e abbiamo visto prima di tutto che cosa succede se noi scambiamo delle forze ma ignorandolo. Non dico urtiamo per un motivo matematico che l'urto significa che la nostra equazione differenziale cambia in maniera discontinua e andrebbe studiato con un po' più di attenzione. Però, chiaro, se io dico adesso urto non ci scandalizziamo, semplicemente io sto indicando che c'è una forza che agisce sull'organo terminale. Questa forza tipicamente avviene in maniera intenzionale perché io sto eseguendo una serie di operazione oppure avviene in maniera non intenzionale perché io ho urtato qualcosa o qualcuno. Per cui è chiaro che l'importanza dello scambio di forze, l'avete visto anche ieri nell'intervento seminariale del professor Marino, è alta in un ambito robotico. La prima cosa che abbiamo visto è, ok, io non so nulla, non voglio misurare la forza che sto scambiando, voglio semplicemente continuare a utilizzare il mio controllo di posizione. Si può fare? Sì, scopriamo che il nostro manipolatore si comporta come se all'organo terminale ci fosse estinto un transitorio su cui, diciamo, incrociamo le dita e speriamo che si estingua, che vada al regime, si comporta come una molla, una molla virtuale in cui la rigidezza è data dal controllore che contrasta che cosa? Beh, noi se non facciamo ipotesi sulla forza che viene scambiata con l'ambiente, possiamo parlare poco, però facciamo l'ipotesi che l'ambiente sia una molla reale, cioè che si comporti in maniera elastica. In quel caso, quindi, io ho, diciamo, l'equilibrio fra la molla virtuale e la molla dell'ambiente e in base alle due rigidezze ci sta una, per esempio, una diversa posizione al regime, una diversa forza a scambiare. Poi abbiamo visto che potrebbe essere opportuno, misurando la forza all'organo terminale, gestire un po' meglio il transitorio di questa interazione, perché nel caso di compliance control, quello che succede è che io posso assegnare solamente, abbiamo due guadagni, il Kv e il Kp, non posso assegnare la massa virtuale e con e senza contatto cambiano l'equazione al ciclo chiuso dell'equazione differenziale, per cui il comportamento dinamico è modesto. Posso cercare di assegnare, se volete, proprio la funzione di trasferimento dell'interazione attraverso il cosiddetto controllo di impendenza. In entrambi i casi abbiamo fatto un po' di sforzi per cercare di rendere il controllore indipendente dalla configurazione del robot, o indipendente dal solo orientamento. Noi abbiamo visto che ci possono essere due tipi di dipendenze che non ci piacciono, o proprio la tipodipendenza dal vettore Q, oppure solamente dall'orientamento. In ogni caso questo implica un comportamento all'organo terminale che cambia nello spazio di lavoro. Non è una buona progettazione, cioè non è una buona macchina se io ho un comportamento diverso, se lavoro qui piuttosto che lavoro qui, chiaramente. Adesso che cosa facciamo? Adesso invece entriamo in quella che si chiama controllo di forza, controllo diretto. Io adesso non voglio gestire l'interazione, io adesso voglio proprio assegnare una forza in Newton oppure un momento in Newton-metri. Quindi mentre prima il paradigma di controllo nel controllo di impendenza è cambiato rispetto al controllo di posizione, perché io non voglio assegnare una variabile desiderata, ma più che altro voglio assegnare una funzione di asferimento, un comportamento. Adesso torniamo ad assegnare una variabile desiderata. Io devo spingere contro un muro esattamente a 10 Newton. Questo può essere richiesto da una serie di applicazioni, per cui vediamo che algoritmi di controllo possono implementare. Anche in questo caso ci andremo in maniera un po' progressiva. Vi faccio vedere prima degli aspetti delle leggi di controllo che hanno poi dei difetti e li andiamo a complicare un po' prima di arrivare a qualcosa che è più utilizzabile. Poiché oggi, vi ho detto che finisce la lezione, tutti questi altri argomenti quando li facciamo oggi, però evidentemente io farò solamente degli accendi. Capiamo cosa vuol dire il moto vincolato, capiamo cosa sono i vincoli naturali artificiali e poi vi faccio vedere lo schema di un controllo ibrido. Non entriamo nel dettaglio. Il vostro progetto di esame si ferma o, poi decido in base, ancora non l'ho scritto, quindi poi in base all'umore del giorno in cui lo scrivo, si fermerà al controllo di forza. Allora, vediamo un attimo. Parliamo quindi di controllo diretto. Che cosa voglio fare? Beh, io voglio, per esempio, progettare un anello esterno di controllo in forza. Guardate, dal punto di vista intuitivo, quello che io sto per fare è abbastanza semplice. Immaginate che adesso la mia mano qui sia un ambiente a riposo e questo è l'organo terminale. Io ho un sensore che mi dice la forza, immaginate solo la forza in questa direzione. Io ho un sensore che mi dice che forza sto attuando su questo piano che reagisce come una molla. Allora qual è il principio? Il principio è io sto misurando e allora spingi finché non ottieni, diciamo, errore nullo, cioè la forza che tu vuoi. Questo è il principio. Vediamo come ci arriviamo a implementarlo. Allora, immaginiamo per ora di avere sempre il solito ambiente elastico, per cui la forza all'organo terminale e c'è la F, per cui questa è solo la forza lineare, va bene? Noi nella trattazione adesso semplifichiamo e consideriamo solo la forza lineare. È una certa rigidezza K che, come sappiamo, K è semidefinita positiva. Cosa vuol dire semidefinita? Le molle hanno un coefficiente positivo. Perché la matrice non è definita positiva? Beh, perché col semidefinito io sto dicendo che in alcune direzioni è zero perché io non ho la reazione elastica dell'ambiente. Sempre la mia mano è il muro verticale. Io, se lungo la direzione uscente dal muro, ho una certa rigidezza, ma lungo le due direzioni parallele al muro io ho zero. Quindi è chiaro che questa K qui, 3x3, avrà una componente diversa da zero che è quella radiale al muro in cui reagisce come molla, ma le altre due a zero. Ok? Per cui è semidefinita che è semidefinita positiva questa K. E allora che cosa facciamo? Proviamo a implementare un anello di controllo in cui io adesso vediamo che cosa succede. Ecco qua. Allora, vediamo un attimo che cosa ottengo. Beh, io prima di tutto, diciamo, utilizzo la mia legge di controllo a compensazione della dinamica. Io ricordo che tutti questi termini qua sono termini che fanno proprio annullare la dinamica. Quindi dal punto di vista matematico io sto proprio cancellando tutti quanti i termini che sono presenti nell'equazione. E che cosa ottengo? Ottengo un accoppiamento diretto fra Q2 punti e la segnale ausiliario Y. Ok? Dopodiché abbiamo già visto che se io inserisco, vabbè, J a meno 1 mi serve questo Iacobiano e poi questo altro termine MDJ punto. Sono termini che servono per... il termine qua dentro serve solamente per compensare il G punto equivalente nell'equazione. Nell'equazione io so che qui ho V punto con E è uguale a G 2 punti più G punto Q punto. Ok? Quindi questo termine G punto Q punto serve semplicemente per compensare questo G punto Q punto. Dopodiché il G meno 1 serve per annullare questo qua. E dopodiché M è invece un parametro del controllore e all'interno della parentesi tonda metto quello che mi va. Va bene? Se io considero un meno K di X punto con E, quindi semplicemente la velocità dell'ordono terminale e poi un qualcosa che ancora devo definire, cioè un K con P che diciamo K P e K D sono definiti positivi e poi io ci metto un qualcosa di strano del tipo X con F meno X con E dove X con E è la posizione della terminale e X con F lo devo ancora determinare. Ok? Se faccio questa cosa qui e diciamo l'abbiamo già vista, andiamo a sostituire qua dentro, io quello che ottengo è un'equazione al ciclo chiuso di questo tipo. Guardate, non ce l'ho più in X tilde, va bene? Adesso questa qui ha X con E, X punto con E, X due punti con E, quindi questa è nella posizione dell'organo terminale, posizione dell'interno dell'organo terminale. E chi ho al secondo membro? Beh, al secondo membro ho un K con P che è mio, che è del controllore e poi ho questo X con F che ancora devo determinare. Ok? Ok, allora per esempio, diciamo, vabbè ma questo X con F sarà un controllore che lavora sull'errore di forza, perché abbiamo scoperto già da tempo che i controllori lavorano con ingresso, in ingresso il segnale di errore. In questo caso voglio controllare la forza perché io ci metto il mio bravo, la mia brava errore di forza e quindi io ci metto per esempio questo C con F per forza desiderata meno forza all'organo terminale, in cui ricordo che io per ipotesi ho deciso che la forza all'organo terminale è la, diciamo, una forza elastica che viene dall'ambiente. Allora, se io faccio queste, diciamo, assunzioni e vado a fare una banale sostituzione, per cui io metto al posto di X con F ci metto questo qui, ok? E al posto di F con E ci metto questo qui, quello che ottengo è questa equazione qua, che devo cercare un attimo di capire adesso. Una equazione differenziale è il secondo ordine, in cui se voi guardate M con D la scegliamo noi, K con D la scegliamo noi, K con P la scegliamo noi, C con F ancora devo discuterlo, K è la rigidezza dell'ambiente, per cui qua dentro è l'unica cosa che non sto controllando in queste equazioni differenziali, va bene? Al secondo membro ancora ho, diciamo, dei parametri sia del controllore che la rigidezza dell'ambiente e poi ho finalmente la forza desiderata. Come va questo controllo? Sembra controllo che potrebbe andare bene, in realtà va così così, perché? Vediamo un attimo perché. Allora, questo qui è lo schema blocchi del controllore. Cerchiamo un attimo di capire, di leggere questo schema blocchi. Allora, come vi ho detto, diciamo, partiamo dagli integratori, no? Qui ho l'integratore con un'uscita la x punto con E, l'ingresso x due punti con E, poi x con E qua e un altro integratore. Quindi tutta questa parte qua, diciamo, è l'equazione di secondo e questa parte qua, mdx due punti con E più kd x punto con E, ok? Dopodiché la posizione all'organo terminale interagisce con la posizione di riposo dell'ambiente e a meno della rigidezza dell'ambiente sviluppa una certa forza all'organo terminale. Questa qui la riporto indietro in un nodo sommatore, la confronto con quella desiderata ed è proprio il segnale d'ingresso al mio controllore. Bene, quindi questo è il loop esterno che io ho messo di forza per poter avere il mio anello di controllo in più. Questa qui è la risuazione di posizione che stiamo controllando con x con f. Quindi qui stiamo semplicemente nello schema, fatemi dire, classico dell'equazione del secondo ordine. Qual è il problema di questo schema? Beh, guardate un attimo, vediamo prima, diciamo, dal punto di vista matematico, poi vi do l'interpretazione fisica più semplice. Allora, se io scegliessi c con f puramente algebrico, che vuol dire un guadagno, ok? Cioè un controllore algebrico. Un controllore algebrico sarebbe un controllore di tipo 0, quindi un controllore senza azione integrale. Che cosa avrei? Beh, guardate un attimo che cosa avrei. Immaginate che io sto esercitando una certa forza. Questo controllo mi porta a 0 l'errore. Nel momento in cui l'errore va a 0, questo segnale ausaliare x con f chiaramente va anche a 0, per cui quello diventa riferimento per l'organo terminale che tende a tornare indietro. Per cui il mio diciamo ambiente tende a riesercitare una forza e così via. Cioè vanno poi al regime un errore diverso da 0. Esattamente quello che succede in un sistema di tipo 0, ok? Per cui io al regime non ho un errore nullo. Allora posso, diciamo, modificare questo schema di controllo in maniera tale da avere un errore diverso da 0? Beh, sì, e quello che posso fare, e adesso lo facciamo in maniera intuitiva, però le equazioni avete capito che abbiamo linearizzato, quindi le equazioni che potremmo usare sono le stesse di fondamenti di automatica, ci metto qui un'azione integrale. Quindi se io scelgo c con f come un pi, quindi il proporzionale integrale rispetto all'errore di forza, e allora io ottengo che al regime la forza dell'organo terminale è uguale alla forza desiderata. Sembra che vada tutto bene, poi vedremo che comunque c'è un difetto, però vediamo dopo, va bene? Dove va la posizione dell'organo terminale? Beh, la posizione dell'organo terminale non è un oggetto del controllo in questo momento, per cui, diciamo, soddisfa questa equazione qua. Ho kx con e uguale kx con r più f con d, in cui k è la rigidezza dell'ambiente, x con r è la posizione di riposo dell'ambiente, fg è la forza desiderata. Ok? Quindi è una posizione tale che la forza all'organo terminale sia uguale alla forza desiderata. Non la sto... Ok? Perché qui non c'è un'azione derivativa? Il motivo è ingegneristico. I sensori di forza sono molto rumorosi. L'azione derivativa amplifica il rumore in alta frequenza, per cui, dal punto di vista matematico, io potrei mettere l'azione derivativa qui e potrei divertirmi a fare un controllo un po' più, diciamo, elaborato, però poi questo controllore non potrei mai sperimentarlo, perché i sensori sono intrinsecamente rumorosi, per cui questa azione è derivativa. Per cui non la presentiamo proprio. Ok? Allora, cambiamo un po' l'azione e diciamo, ok, tu puoi dare un riferimento di posizione, quindi il tuo errore di forza diventa un riferimento di posizione, vuol dire ti do una posizione che è proporzionale all'errore di forza. Ma in realtà puoi anche fare un'altra cosa, puoi darmi una velocità che è proporzionale all'errore di forza, per cui possiamo ottenere quello che si chiama un controllo di forza con loop interno in velocità. Cosa cambia? Beh, noi abbiamo le stesse equazioni, diciamo, lo stesso segnale, è la stessa U che compensa la dinamica, quindi cambiamo leggermente il segnale ausiliare Y, in cui mettiamo sempre G a meno 1 e M a D a meno 1, all'interno della parentesi tonda mettiamo sempre il G punto. L'unica cosa che cambia, guardate, è che adesso ho un Kpx con F, e metto quindi direttamente, con questo qui uguale a Kpx con F, F desiderato meno F con E, metto direttamente questo segnale, diciamo, di, questo errore di forza, a livello di velocità, lo stesso livello di X punto con E, ok? Come cambia l'emeguazione a ciclo chiuso? Guardate, sono una serie abbastanza banale di sostituzioni, perché io metto al posto di F con E, abbiamo scoperto che mettiamo K per X con R meno X con E, questo X con F lo mettiamo qua dentro, abbiamo compensato tutto quanto, quindi io quello che trovo è una cosa del genere, che è ancora un'equazione del secondo ordine lineare, e qua stiamo parlando di cose molto molto semplici, va bene? Dal punto di vista matematico, cioè ci sono tante matrici, tante K che si moltiplicano fra di loro, però dal punto di vista matematico, queste qua sono tutte quante matrici di progetto, per cui le scelgo diagonali, non è che mi complico la vita, se io le scelgo diagonali, questo significa che tutte queste cose qui matriciali, in realtà sono equazioni scalari, sono disaccoppiate, quindi la trattazione matriciale che ci aiuta il 99% delle volte, in questo caso cerchiamo di fare attenzione a far sì che non ci complichi la lettura di questa equazione, perché qua sono tutte matrici diagonali scelte dal progettista, quindi qui non c'è accoppiamento, va bene? Questa è un'equazione del secondo ordine scalare. Ok, questa cosa qui funziona, vediamo lo schema blocchi, questa cosa qui funziona abbastanza, nel senso che io adesso ho sempre lo stesso modello, però la forza viene confrontata con quella desiderata e messa dentro a livello di velocità, va bene? Quindi se vedete retroazionata insieme all'attrito virtuale. C'è un aspetto, diciamo, un po' così di questa trattazione, che K con F e K con P in realtà sono un solo grado di libertà, però non so perché vengano dati entrambi, visto che questo si vedeva già da qua che sono un solo grado di libertà, perché se ho K con P e X con F e poi X con F uguale a K con F per qualcosa, chiaramente K con P per K con F sono un grado di libertà, però questa è una sciocchezza, non cambia l'interpretazione. Al regime abbiamo, ancora una volta, che la forza all'ordine terminale è uguale alla forza desiderata e poi abbiamo al solito un'equazione che ci consente di capire quale sarà la posizione raggiunta dall'ordine terminale. Ok? Ora, questi due schemi di controllo funzionano, certo che funzionano, se io faccio la simulazione funzionano, però hanno due difetti. Vediamo il primo difetto qual è. Se io voglio controllare una forza in una certa direzione, quindi diciamo che questa è la direzione rispetto alla quale io voglio controllare la forza, ma non c'è nulla che reagisce. Cosa fa il mio controllore? Vediamo, vediamo un attimo, di capirlo da, con un disegno. Ora condivido lo schermo, è un attimo. Ora condivido lo schermo, è un attimo. Allora, voi avete il vostro bravo manipolatore che deve esercitare una certa forza lungo x, va bene? E quindi questo x, va bene? Ok? Ora dovete esercitare una forza lungo x, però non siete a contatto con l'ambiente, non state scambiando nessuna forza con l'ambiente, cerchiamo di vedere prima di tutto dal punto di vista come dire intuitivo che cosa succede. Quindi questa è la vostra f desiderata. Ora vi chiedo, che cosa succede? Vediamo, questa forza desiderata viene assegnata al mio controllo come una velocità o come una posizione, come un riferimento di velocità o come un riferimento di posizione, finché non va a zero l'errore. Cioè, finché il mio sensore di forza non dice sì, hai raggiunto la forza che vuoi, quindi il tuo riferimento di velocità o di posizione adesso lo puoi annullare. Ma se io sono non in contatto con l'ambiente, il mio sensore leggerà zero, perché non c'è una forza che sta agendo sull'ambiente. E quindi che cosa significa? Che va davanti. Ok? Cioè, il mio, diciamo, manipolatore continua a spingere in una direzione in cui non c'è nulla che reagisce. Questo è quello che succede. Poi arrivo, in questo caso, continuiamo questo esempio, poi arrivo a contatto con l'ambiente. Ok? Quindi a questo punto l'ambiente sta reagendo. Sì, però come reagisce l'ambiente? Vediamo un attimo, facciamo la forza dell'ambiente, la faccio in verde. L'ambiente reagisce con una forza in questa direzione. Perché abbiamo fatto l'ipotesi, per esempio, che questo sia un piano cedevole lungo la normale del piano. Perché reagisce solo in una direzione? Beh, noi non abbiamo fatto l'ipotesi che reagisca ovviamente con una molla in sei forze in sei momenti, sarebbe anche difficile da visualizzare. È semidefinita positiva la cappa, vuol dire che reagisce in alcune direzioni sì e in alcune no. Quelle in cui reagisce, il nostro controllore si comporta bene. Ma se io segno una forza in una direzione in cui il mio ambiente non reagisce, questo qui verrà interpretato come riferimento di velocità. Allora, questo significa che se io ho sbagliato e sto assegnando una forza orizzontale, cioè lungo x, ma il mio ambiente sta reagendo con una componente che è anche poco, diciamo, non allineata, io avrò una componente della mia forza che non viene compensata dalla reazione ambientale e che viene interpretata come riferimento di velocità o di posizione dall'ambiente. Quindi questo significa che avrò un manipolatore che slitta, l'organo terminale slitta. Perché? Perché sono io che glielo sto dicendo. E lui sta cercando di eccitare una reazione ambientale che in realtà non c'è. Ok? Quindi questo schema di controllo va bene, però non è uno schema di controllo che possiamo considerare definitivo. E quello che c'è scritto qui è, ho bisogno di una perfetta conoscenza dell'ambiente. Ora, io l'ho detto a parole, matematicamente, se la forza desiderata non appartiene all'immagine di K. Questa è la scrittura matematica del concetto che io vi ho detto prima. Cioè, se io assegno una forza desiderata dove non c'è una reazione nell'ambiente, questa forza desiderata è interpretata come un riferimento di velocità. Per cui ho esperienza. Per cui il manipolatore ha un drift in quella direzione. Ok? Questo è un difetto abbastanza macroscopico. Ce n'è un altro, però, diciamo, prima di passare al secondo, vediamo un attimo in realtà se io faccio proprio un errore piccolissimo che cosa succede. Perché poi questo è vero, però se il mio errore è molto piccolo, vediamo che cosa succede. Immaginiamo che ho il mio ambiente, in questo caso lo faccio così per comodità. Allora, la forza desiderata, di che colore avevo fatto prima? Verde. Mi ricordo. No, rossa. 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 Ok. Allora, diciamo che io faccio un piccolo errore, per cui la mia forza desiderata è, diciamo, di poco non parallela. La reazione vincolare del mio ambiente, che avevo fatto verde, giusto? È questa. Allora, ok, quindi c'è una certa componente che tu ti stai, diciamo, perdendo, questa è la proiezione lungo la normale, per cui c'è un drift dell'organo terminale. Sì, però se, diciamo, il mio errore è molto piccolo, io questo posso anche sperare che sia nel cono dell'attrito statico. Va bene? Quindi siamo sempre ingegneri, matematicamente scivoliamo, ma se faccio un errore piccolo magari no, perché ho un certo attrito statico. Ovviamente a questo punto entra in gioco anche la proprietà del materiale, cioè quanto è viscoso o meno il materiale. Ok. C'è un altro difetto, è che io in realtà con la legge di controllo, così come ho immaginato, io ignoro il controllo di posizione anche nelle direzioni ammissibili, cioè questa legge di controllo è solamente, diciamo, qualcosa che mi dà l'idea di quello che posso fare, però guardate, se io, diciamo, volessi capire cosa succede nelle componenti che non appartengono alla reazione ambientale, questa è l'equazione, è solo ricopiata l'equazione del loop interno di velocità, va bene? È solo ricopiata qui. Ora, che cosa succede se io assegno lungo le componenti che non fanno parte dell'immagine, diciamo, di K, quindi dove non c'è la reazione ambientale? Cosa succede? Beh, se non c'è la reazione ambientale, vuol dire, questo qui proprio è 0, K è 0, quindi questo è 0, la forza desiderata è 0 perché sono io che non gliel'ho data, sono stato bravo, cosa rimane? Beh, rimane solamente questo uguale a 0, cioè è un'equazione differenziale del secondo ordine che porta a 0 l'ordine terminale. In realtà, diciamo, non è che è un errore del controllore, è che io proprio sto cominciando e ho messo un controllore che chiaramente non è, diciamo, il controllo definitivo perché in quelle direzioni io non sto proprio prendendo in considerazione il fatto che io possa controllare la velocità, va bene? La posizione. Per cui questi schemi che abbiamo visto sono schemi di principio. Si può risolvere in maniera abbastanza furba con quello che si chiama controllo parallelo di forza posizione. E cioè io che cosa faccio? Guardate direttamente lo schema a blocchi sotto. Allora, questo qui è lo schema a blocchi che abbiamo visto, diciamo, nel primo caso, col controllo di posizione, in cui l'unica differenza è che io ho aggiunto questo x desiderato qui. Che cosa succede? Vediamo che cosa succede. Allora, lungo le direzioni in cui non c'è interazione con l'ambiente, f desiderato vale 0 perché sono stato bravo, non gli ho dato f desiderato lungo la direzione diciamo che non posso controllare. La forza dell'ambiente è 0 perché non c'è interazione con l'ambiente, per cui questo x con f vale 0 e allora il mio schema di controllo è un controllo di posizione puro e semplice. Lungo le direzioni invece in cui c'è interazione con l'ambiente, il mio x desiderato, a questo punto cos'è? Beh, se io cambio nome e lo chiamo d, lo riconosco subito, è un disturbo. Ma se è un disturbo, messo in questa posizione qua, studio, cioè studio, ricordo quello che ho studiato in fondamenti di automatica e dico subito, vabbè, ma questo viene reiettato perché questa è una variabile esogena che interviene a valle del controllore e nel controllore io ci ho messo per esempio un'azione integrale, per cui questo disturbo qua viene reiettato. E allora guardate cosa sto facendo. Io, se non c'è reazione, questo x desiderato viene interpretato correttamente come un riferimento di posizione. Se c'è la reazione vincolare, questo viene reiettato. Quindi io avrò un degrado di prestazioni, però io riesco a controllare sia la forza nelle direzioni che mi interessano che la posizione nelle direzioni in cui non c'è reazione vincolare. Quindi ottengo entrambi gli obiettivi di controllo e questo comincio già a poterlo implementare. Quindi a regime si può dimostrare che ottengo quello che voglio e per curiosità vi ho ricopiato il titolo e l'intestazione dell'articolo dove è stato presentato questo controllore la prima volta. Voi non eravate nati perché nel 1993 è stato presentato. Va bene? Qua si dovrebbe leggere piccolino da una persona che forse avete incontrato già nella vostra carriera accademica. Va bene? E quest'altro, diciamo, professore è una generazione precedente, quella del professor Chiaverini, è forse uno dei primi che in Italia ha portato la robotica come disciplina accademica, nel senso che ha cominciato a proporla nei corsi di laurea, a studiarla. Ok, allora vediamo qualche piccola simulazione. Questo è il nostro solito manipolatore planare a due bracci con un ambiente in cui x con r è riposo, x desiderato è questo, x con e è la posizione corrente attuale dell'organo terminale e implementiamo qualcosina. Allora, quando noi assegniamo queste tre matrici, continuiamo a chiamarla impedenza, va bene? Quindi l'insieme di questi tre valori si chiama comunque impedenza. Allora, prendiamo due ambienti, più o meno compliant, sempre cedevoli che è l'inverso di rigidi, assegniamo come riferimento 10 N lungo x e la posizione desiderata è di 15 mm lungo x e 10 cm lungo y. Quindi il mio controllo di forza, nel primo caso, ha questa struttura, abbiamo tre casi, ha questa struttura in cui ho una matrice diagonale, in cui ho un controllore di forza lungo x che devo assegnare, però non ce l'ho lungo y. guardate, è chiaro che qui è stato fatto apposta di avere l'ambiente parallelo all'asti xy in maniera tale da essere tutto più leggibile, tutto più semplice, va bene? Allora, controllo con loop interno di posizione e a questo punto il mio controllore è un pi. se no, non ho errore nullo, no, ce lo ricordiamo. Con questi guadagni, controllo con loop interno di velocità e a questo punto non devo per forza avere un'azione integrale, anche solo di posizione, un k, oppure controllo parallelo. E ci metto il pi però con il controllo parallelo perché io devo reiettare la x desiderato. Guardate, io la x desiderato la sto dando in tutte e due le direzioni, vediamo che succede. Allora, controllo con loop interno di posizione. Beh, io ho due linee, a sinistra ho la posizione e ricordiamo che la linea continua e la linea tratteggiata sono l'ambiente più o meno cedevole, più o meno rigido. Ora, la linea continua è l'ambiente più rigido perché non devo andare indietro a verificarlo? Perché io qui, se vedo, ho affondato di meno nell'ambiente. Siccome la forza, abbiamo detto che è una molla, quindi è proporzionale allo spostamento, vuol dire che io qui ho raggiunto i 10 N con un minore spostamento rispetto a questo. Quindi questo è l'ambiente più cedevole e questo è l'ambiente meno cedevole. Qui non ho nessun riferimento, diciamo, di... e qui non raggiungo ovviamente la x desiderata. Perché? Perché io sono interessato a un controllo di forza. Il controllo di forza è 10 N e lo raggiungo in entrambi i casi. Va bene? Poi, la qualità del transitorio adesso non ce ne preoccupiamo troppo in questo momento. Perché è chiaro che, diciamo, in questo caso, quello con la linea continua oscilla un po' troppo per i miei costi. Se io faccio il controllo con loop interno di velocità, miglioro un po' il transitorio e ottengo i 10 N in entrambi i casi, cioè, vabbè, ottengo, diciamo, l'errore nulla a regime, a prescindere dalla reazione ambientale, e questo è il mio comportamento. Poi, se implemento il controllo di parallelo, il controllo parallelo, ti lo scusa, raggiungo la forza desiderata, però osservo anche un degrado di prestazione. Perché? Perché in questo caso c'è un disturbo che è un disturbo fittizio, che è quello da ex desiderato. Ovviamente avrei potuto metterla uguale a zero se con conoscenza perfetta dell'ambiente. Però, diciamo, è chiaro che questo mi consente di rimediare a quei problemi che abbiamo visto prima. vediamo i soliti video con gli esperimenti, fatti nel 1997, per cui anche questi, diciamo, storici. Il video sul setà sperimentale l'ho già mostrato, per cui è nelle lezioni precedenti. Vediamo un attimo l'implementazione dell'argetto di controllo in forza. Cosa dobbiamo osservare? Dobbiamo osservare che l'errore a regime sulla forza assegnata sarà zero. E poi quello che vi è stato anche detto ieri, diciamo, da... vi è stato anche detto ieri nell'intervento seminariale. Se io do un riferimento zero di forza all'organo terminale, l'organo terminale rimane fermo. A questo punto, se io lo tiro, l'organo terminale tende ad annullare questa forza, per cui a seguirmi. E, diciamo, mi segue... senza che io percepisca, diciamo, il peso del robot. Io percepisco l'impedenza desiderata, per cui un robot di qualche centinaio di chili io lo posso spostare con due dita. Capito? Allora, un attimo solo, perché mi è partito... Il mio schermo è sbagliato. Questo è il solito foglio A4. C'è anche l'audio, però, diciamo, l'ho levato da questi video, in quelli originali c'è l'audio. Questo tipo di disturbo è perché c'è stata la conversione analogico-digitale, che voi non conoscete, forse, perché avete registrato solo in digitale. Allora, questo è quello che vi dico con un riferimento di forza zero. Se non ci sta nessuna forza all'organo terminale, il robot rimane fermo. Altrimenti, il robot si muove per annullare questa forza. Va bene? E quindi cosa significa? Che segue la mano. Questo è, diciamo, un controllo in forza in cui è evidente che si apprezza poco nel video, se non guardando poi i grafici. e il refill, diciamo, l'obiettivo di controllo è questo di assegnare, un attimo solo, è quello di assegnare una certa forza desiderata all'organo terminale che quindi viene raggiunta. È chiaro che in questo caso, guardate, la cappa ambientale non è nota, cioè vuol dire, io posso stimare la cappa di un cartone, ma non è nota. Comunque il controllo ovviamente raggiunge errore, errore. Vabbè, questa è la posizione e questa è la forza raggiunta. E poi ho sbagliato la conversione perché poi il video si blocca. Ok. Vediamo un altro, diciamo, un altro video che è più recente, è, diciamo, più colorato e più attraente, ma fa esattamente la stessa cosa. Va bene? Allora, voglio esercitare una forza di 30 N, che sono 3 kg, lungo Z. Evidentemente Z è, diciamo, è orizzontale e, diciamo, quello che sta facendo è che sta esercitando 3 kg. Ovviamente non c'è una reazione di tipo elastica, ma ci sta una persona che sta reagendo alla forza. Va bene? Quando la persona lascia, vedete che il manipolatore continua a spingere perché non trova una reazione ambientale. Se l'operatore si fosse fermato, si sarebbe fermato a 3 kg. Ok? Ok. Allora, facciamo comunque una piccola pausa, anche se la parte successiva è, diciamo, molto... o no, è breve, diciamo, io forse, forse vado avanti, no, andiamo avanti, perché questo è molto, è molto, diciamo, breve, quasi discorsivo. Allora, che cosa voglio vedere adesso? beh, vediamo un attimo, io non posso fare, diciamo, le ipotesi di avere un ambiente perfettamente rigido e di conoscerlo perfettamente, va bene? Per cui devo cominciare un po' a rilassare delle ipotesi, cosa che, come vi ho detto, noi qui accenniamo solamente e ve la illustro così per darvi un quadro completo della interazione, ma non arriviamo a questo punto e anche con il progetto d'esame non arriveremo a questo punto. Allora, noi, diciamo, dobbiamo considerare un contatto reale in cui, per esempio, l'organo terminale non è direttamente a contatto con l'ambiente, l'organo terminale ha un sensore e poi ha un tool che è quello con cui stai seguendo diciamo l'operazione, che a sua volta ha una sua, diciamo, cedevolezza o rigidezza. La, diciamo, interazione non è mai un'interazione perfetta, puntuale, con una, per esempio, una parete che si muove rigidamente tutta quanta indietro. Se voi visualizzate l'esperimento fatto con lo scatolone di cartone è evidente che c'è stata una deformazione locale in quella interazione, va bene? Perché è chiaro che non è che il cartone è sprofondato come una mola e poi è risalito. Quindi, in genere, ci possono essere dei fenomeni che sono abbastanza più complessi di quelli che abbiamo definito. Infatti, una intera branca della robotica studia è il cosiddetto grasping e cioè grasping è afferrare degli oggetti con delle mani robotiche. È una disciplina a sé stante, nel senso che non fa parte di questo corso di l'area, non fa parte del nostro, storicamente, diciamo, delle nostre competenze come gruppo di ricerca. È molto interessante, non ci credete, ma ci sono le matrici anche lì, per cui, anche in quel caso, ci sono i nulli diciamo delle matrici. Ci sono, diciamo, da tenere in considerazione anche i fenomeni di attrito viscoso e statico. Vi ho detto prima una particolarità di quello statico, ovviamente ci sono sempre quello viscoso in genere non ci dà fastidio per il controllo perché è un termine stabilizzante, quello statico ci dà un po' spesso ci dà un po' fastidio. Ora, io salto tutta la parte legata agli aspetti matematici, va bene? E arrivo direttamente al caso studio, giusto per farvi vedere, ecco qua, giusto per farvi vedere diciamo, come io posso prendere in considerazione il fatto che io abbia diciamo, delle interazioni solo in alcune direzioni, piuttosto che in alcune. Allora, immaginiamo, va bene, l'ambiente rigido e senza attrito e questo è il nostro diciamo organo terminale, in realtà c'è solamente il tool che diciamo ha in mano un oggetto con il quale deve eseguire un'operazione su una superficie. Allora, che cosa noto dal punto di vista del controllo? Beh, io noto che in alcune direzioni io posso continuare a controllare il robot in posizione, in altre io non posso assegnare diciamo la la posizione senza eccitare delle forze di reazione, per esempio lungo la Z, guardate, c'è il pedice C, ok? Del vincolo C-Sapor-Constrain quindi questa è una terna solidale al vincolo. Avete capito che con l'interazione il giochino delle terne diventa un po' più complicato, terne da tutte le parti, va bene? Ora, quindi io devo, diciamo, posso controllare il moto lungo X con C perché ho detto che non c'è attrito e so che sto esercitando, sto eccitando una forza di reazione di lungo X con C. Allora, noi possiamo individuare due, come dire, categorie di vincoli che sono i vincoli naturali e artificiali. Con il termine naturale noi intendiamo il vincolo che viene esercitato dall'ambiente con il termine artificiale che è quello che viene imposto dal controllo. più un obiettivo di controllo quello il vincolo artificiale, va bene? Però invece il vincolo naturale, la parola naturale e vincolo rappresentano bene quello che succede. Io una forza lungo X non la posso imporre, quindi c'è un vincolo naturale a che la forza lungo X sia zero all'ordine terminale. c'è un vincolo naturale a che la velocità diciamo normale al piano sia zero mentre io posso assumere come obiettivi di controllo e quindi come vincoli artificiali se volete la velocità lungo X cioè lungo il piano oppure la forza lungo Z cioè normale al piano. La cosa importante è che questi vincoli sono ortogonali e complementari. Per cui il mio controllore in qualche modo e questo diciamo lo vedremo come vi ho detto brevemente in maniera abbastanza superficiale in una direzione o ha un vincolo naturale o ha un vincolo artificiale. quindi io quando conosco l'ambiente posso assegnare le forze o velocità desiderate ma la cosa importante è che io non posso assegnare nella stessa direzione forza e velocità o l'una o l'altra. e allora allora io posso definire delle matrici di selezione su cui non entriamo nel dettaglio va bene qua c'è scritto as already defined perché sono state definite nelle pagine precedenti in maniera analitica noi non ci preoccupiamo vediamo il concetto io posso definire delle matrici di selezione che mi dicono questa è una direzione in cui c'è un vincolo artificiale ossia un obiettivo di controllo e questa è una direzione in cui c'è un vincolo naturale e quindi tornando alla necessità di far scivolare un tool su un piano io posso individuare vincoli naturali e vincoli artificiali quindi guardate il vincolo naturale è la velocità lungo la normale al piano ma anche le velocità angolari lungo le due direzioni che invece una base diciamo rappresenta una base del piano perché io non le posso assegnare omega x c omega y c non solo le forze generalizzate dove non c'è reazione quindi sono le due forze lungo il piano deve essere zero perché non c'è reazione nel piano e anche il momento è zero perché non c'è niente che mi che mi diciamo reagisca ora è chiaro che se io ho individuato i vincoli naturali poiché so che sono complementari quelli artificiali beh gli altri li posso mettere in maniera anche diciamo meccanica anche senza capirlo perché quali sono i vincoli artificiali beh la forza lungo la normale al piano poiché c'è la reazione la posso controllare quindi questo può essere un obiettivo di controllo in questo momento che abbiamo vincolo artificiale i due momenti perché c'è la reazione dell'ambiente noi non abbiamo visto però diciamo la molla in orientamento lo stesso comportamento di quella in posizione e poi la velocità la velocità lungo x la velocità lungo y io posso muoverlo sul piano e la velocità angolare in questa direzione ok quindi posso costruirmi delle belle matrici per fare cosa beh per costruire lo schema finale di controllo che vi ripeto rimarrà per noi a livello superficiale sono delle matrici di selezione va bene e il fatto che siano ortogonali e complementari diciamo si rispecchia in una proprietà di queste matrici di selezione questo è un altro è un altro problema nel momento io in cui ho un cilindro che però è già entrato nel buco perché il peg in all è un problema di controllo e vi ho fatto vedere all'inizio come una celevolezza meccanica passiva può aiutare a inserire un oggetto all'interno di un buco adesso immaginiamo che sia già all'interno e ho i miei bravi vincoli naturali artificiali ancora una volta come faccio a individuarli beh partiamo da quelli naturali che sono più intuitivi forse le direzioni in cui io non posso andare senza diciamo eccitare delle reazioni ambientali oppure diciamo le forze che non posso eseguire la forza lungo lungo la normale al buco io non la posso assegnare per cui è un vincolo naturale cioè deve essere zero e poi ho i vincoli artificiali ok con le matrici di selezione girare una valvola è un altro problema di controllo in cui si possono individuare vincoli naturali ed artificiali ve lo lascio a voi come divertimento di trovare quali sono con le due brave matrici di selezione guardate questi esempi sono tutti uni e zeri in realtà non è così va bene è semplificato perché abbiamo messo abbiamo messo diciamo le terre in maniera opportuna se io poi devo aggiungere una vite è un caso studio ancora più complicato che non abbiamo visto perché ci sta un accoppiamento fra le variabili quando voi mettete la vite non potete assegnare in maniera indipendente la velocità di avanzamento e di rotazione quando voi mettete la vite col giravite le due velocità sono accoppiate fra di loro e ovviamente non abbiamo sempre uno e zeri questo l'ha aggiunto perché l'ho letta tre giorni fa praticamente è un'intervista a un dirigente diciamo di questa azienda che produce ROV ROV sono i remotely operated vehicles che vengono controllati normalmente da operatore che sono a bordo della nave di appoggio quindi sono in superficie e li controllano in delle cabine più o meno di questo tipo qua gli operatori lavorano su turni di otto ore il veicolo rimane sott'acqua sempre tutta la durata diciamo dell'operazione e si alternano anche tre gruppi di lavoro va bene per cui operazioni diciamo di manutenzione di quelle strutture sottomarine si chiamano Christmas trees si chiamano alberi natale sono operazioni che sono estremamente costose perché voi avete bisogno di un certo diciamo equipaggio piuttosto piuttosto numeroso che rimanga diciamo anche un mese a largo per fare queste operazioni con il veicolo che è costantemente in acqua chiaramente risparmiare tempo è una variabile che ha il suo peso fino adesso le aziende non si sono mai troppo preoccupate del risparmio perché questa ha riguardato principalmente l'industria petrolifera per cui diciamo non era proprio il fattore principale non era proprio il risparmio quanto più andare subito a fare l'operazione adesso che sta cominciando a diventare più costoso estrarre il greggio si stanno preoccupando di ridurre anche i costi e per esempio qui che cosa hanno in questa intervista che cosa viene diciamo detto da questo amministratore delegato che è tutto contento perché hanno messo sul mercato un ROV in cui l'operatore viene aiutato da un controllo lui lo chiama di compliance in realtà quindi di diciamo decidevolezza in realtà dalla descrizione che ne fa poi nell'articolo secondo me un controllo di impedenza per aiutare l'operatore che deve esercitare la forza solo in una direzione per mitigare quelle che chiama le unintended forces cioè i diciamo gli impatti se ricordate diciamo dal punto di vista del controllo è quello che è stato fatto nel progetto europeo nel video fatto vedere è molto simile a quello ok quindi io alla fine che cosa faccio quando ho tutte queste informazioni salto direttamente allo schema blocchi perché vi voglio dare solamente diciamo l'idea di quello che io faccio cosa faccio implemento un controllore in cui ho diciamo due loop che sono il controllo di forza e il controllo di movimento che vengono opportunamente gestiti tramite queste matrici di selezione vi ripeto non sono costanti non sono sempre 1 e 0 cambiano cambiano durante l'operazione per cui non posso dire banalmente tu controllo la posizione lungo x e la forza lungo z e via faccio due loop di controlli separati no è tutto quanto insieme ma lo posso fare se io diciamo ho questa l'accortezza di scrivere questa matrice diciamo di selezione di capire quali sono i vincoli naturali quali sono i vincoli artificiali slash obiettivi di controllo e per cui poi alla fine posso impostare un bel problema di controllo in cui io gestisco l'interazione in tutte le direzioni senza particolari problemi ok e vi ripeto non entriamo nel dettaglio delle equazioni non facciamo degli esempietti neanche tranne quelli che vi ho fatto vedere con 1 e 0 però diciamo lo schema di controllo rientra non linear compensation ormai dovreste aver imparato benissimo che io faccio identificazione in modello matematico ho le mie brave equazioni poi compenso tutto e qua ho un segnale ausiliario che qua si chiama alfa sarebbe l'y di tutte le altre equazioni non so perché è stata cambiata il nome e in questo segnale ausiliario faccio entrare in maniera opportuna le matrici di selezione quindi diciamo sono rimasto intenzionalmente a un livello di descrizione diciamo alto a livello di astrazione alto ok io concluderei con questo diciamo anche gli argomenti negativi al controllo dell'interazione ecco e qui